Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo, dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se stiamo lontani, dimmi cos'è, cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla da noi, grazie amore, che ci fa viaggio di abbracciarci ancora. Grazie, grazie. Questa era una mia messa di armonizia, è un momento più di fermi. Adesso passiamo alle Sacristi. Seconda lettura, dalla lettera di San Paolo, con l'Apostolo, ai fratelli, fratelli, camminate nella carità, nel mondo in cui anche Cristo ci ama e ha dato se stesso per noi. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per noi.